Musica Si arriva all'anno europeo dell'aria, il 2013, con un precedente davvero negativo. Lo scorso anno, infatti, tutti i principali centri urbani hanno superato la soglia prevista per legge dei 35 giorni di sforamento in un anno. L'aria della pianura padana è considerata zona critica, con 18 città tra le prime 20 posizioni nella classifica dell'inquinamento atmosferico, anche a causa delle caratteristiche geomorfologiche che non favoriscono il ricircolo dell'aria. Bocciati tutti i capoluoghi di provincia della regione Emilia-Romagna, a cominciare da Parma con 115 giornate di sforamento, seguita da Reggio Emilia, Rimini, Modena, Bologna e Sessa, chiude la classifica Forlì. A fornire i dati è lega ambiente che individua nei processi industriali e di produzione di energia in città, prevalentemente il traffico veicolare e riscaldamenti, le principali fonti di emissioni di polveri fini e in genere inquinanti. Secondo l'associazione, è necessario intervenire con un'AIA, autorizzazione ambientale integrata, più severa per siti produttivi e centrali elettriche, politiche di efficienza energetica degli edifici, per citarne alcuni. Ciò di cui necessita la nostra regione, più che singoli provvedimenti di limitazione, riferiscono dalla Segreteria di Lega Ambiente Emilia-Romagna, è una visione d'insieme per ripensare, in maniera sostenibile, il sistema di mobilità pubblica e privata, lo sfruttamento territoriale e l'efficienza energetica dei nostri edifici. A nemmeno otto mesi dal sisma si inizia a parlare concretamente di ricostruzione. A Bologna lo ha fatto il Comitato regionale dei geometri. Ecco in sintesi qualche numero dato dal Presidente Stefano Dainesi. Abbiamo notizia oggi dello stanziamento dei 6 miliardi di euro governativi, quindi questo è sicuramente un bel dato di partenza. Le schede Aedes che sono state compilate, fra gli altri, anche dai professionisti, anche geometri, sono state circa una quarantina di mila, quindi un 40 mila, e se noi consideriamo soltanto il fatto che sono gli abitanti coinvolti, secondo me sono sicuramente molte, qualche centinaia di migliaia, fra imprese, abitanti, professionisti. Poi c'è tutta una serie di altre situazioni che vengono parallele, quindi veramente stiamo parlando di un'operazione che ha un impatto enorme, per non dimenticare poi la parte produttiva del territorio, che ha subito i danni, è stata coinvolta nella verifica post-sisma della messa in sicurezza, quindi abbiamo veramente una platea enorme di soggetti coinvolti in questa operazione. Nel corso del 2013 molti settori produttivi arriveranno alla fine degli ammortizzatori sociali e in assenza di segnali di ripresa, il rischio è quello di assistere ad una vera e propria delocalizzazione. A lanciare l'allarme la CGL di Imola, che tra i comparti a cui prestare più attenzione, segnala quelli legati alla Cassa Integrazione Inderoga. Il taglio a questo strumento spiega, si farà sentire e non poco sulle piccole imprese e sul commercio. Proprio quest'ultimo è il settore che in queste settimane sta presentando più richieste per usufruire ancora di questo ammortizzatore. Nel 2013 dunque c'è sicuramente il rischio di perdere posti di lavoro. Negli ultimi anni, ricorda la CIS limolese, sono oltre 2000 i posti di lavoro persi in tutti i settori. Non a caso è ripreso il flusso migratorio, segnala a sua volta la UIL. Quella di andare a lavorare fuori oggi è una costante. L'assessore provinciale alle attività produttive Graziano Prantoni ricorda che in base ai dati dei centri per l'impiego sono oltre 10.573 coloro che sul territorio emolese hanno dato immediata disponibilità ad accettare un lavoro, di cui 5.975 donne. Nel 2012 inoltre 36 imprese emolesi hanno attivato ammortizzatori sociali, passando per il servizio lavoro di Palazzo Malvezzi. Il circondario dunque è un territorio che sebbene abbia tenuto meglio all'impatto con la crisi, anche rispetto ad altre zone della provincia, sta mostrando le sue difficoltà. In una campagna elettorale dai toni populisti, i protagonisti si rinfacciano di essere Liderini e Pifferai. A poco più di un mese dalle elezioni politiche, Ara Pacis pone al centro del dibattito l'esistenza di un vero leader, capace di guidare l'Italia verso una ripresa a 360 gradi. Lidero Pifferai è il titolo della trasmissione condotta in studio da Cisnetto e che andrà in onda su DTV lunedì sera in seconda serata. Straniero uguale criminalità. Il tempo e la conoscenza di nuove culture e tradizioni ha leggermente smussato questo binomio che è ormai entrato nella concezione giornaliera della vita. A rafforzare questa tesi, anche se di passi avanti ne sono stati fatti, un'indagine Corecom Emilia-Romagna, che prendendo spunto dal protocollo d'intesa comunicazione interculturale siglato quattro anni fa, traccia il percorso intrapreso. Se ne è discusso nel corso di un convegno dal titolo ad altra voce la comunicazione interculturale in Emilia-Romagna, nel corso del quale è stato presentato un'analisi sull'informazione eseguita appunto da Corecom. Del protocollo ne abbiamo parlato con Andrea Facchini, tecnico dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. La Regione ritiene che per arrivare a un obiettivo che ci auguriamo tutti, quello di una piena coesione sociale tra cittadini stranieri, cittadini italiani, migranti, nativi, cioè per arrivare a questo obiettivo occorre anche lavorare per una corretta informazione, per un corretto linguaggio, cioè arrivare, occorre un contesto facilitante. L'ordine dei giornalisti vede positivamente il rinnovo del protocollo d'intesa, ma solleva alcune criticità. Quella fu sicuramente, almeno all'inizio, nelle iniziative, nelle premesse, nelle intenzioni, negli obiettivi, sicuramente una cosa importante e lodevole. Il fatto è che poi si è lasciata cadere perché le idee marciano se ci sono anche dei sostegni. Su quella vicenda, evidentemente, la Regione, oltre che mettersi un fiore all'occhiello, non ha pensato, non ha avuto la volontà di investire realmente. Proseguono i controlli antidroga da parte dei carabinieri di Rimini, che nelle scorse ore, nei pressi del casello di Rimini Sud, hanno fermato una Iaris con a bordo un intero nucleo familiare, composto da madre, padre e due figli piccoli. Grazie al contributo dei cani antidroga, è stato scoperto che sotto i sedili posteriori era occultato mezzo chilo di marijuana, diverse dosi di cocaina ed un bilancino di precisione. Il capofamiglia, un albanese ventotenne, è stato subito arrestato ed in seguito alla perquisizione nella sua abitazione è stato fermato anche un magrebino ventenne suo complice che aveva con sé altra sostanza stupefacente pronta allo spaccio. Questo anno è molto proficuo, abbiamo fatto numerosi controlli perché la nostra è una strategia che deve essere perdurante e quindi abbiamo intensificato l'azione sia sulle grandi arterie di ricicolazione sia in tutte quelle nicchie del territorio dove a volte il degrado o comunque l'abbandono rischia di creare delle sacche di impunità. Ma nelle scorse ore i carabinieri riminesi sono stati impegnati anche nell'assistenza di diverse decine di ragazzi di un istituto superiore che nella palestra della piscina comunale sono rimasti intossicati per fortuna senza grosse conseguenze dalle esalazioni di cloro causate da un malfunzionamento del sistema ora posto sotto sequestro. Dopo la verifica, la bonifica dei vigili del fuoco abbiamo fatto intervenire l'ufficio igiene dell'AS per verificare che la struttura avesse ancora le condizioni di agibilità e lì con il responsabile abbiamo potuto constatare che l'impianto idrico non aveva subito danni ci sono dei danni all'impianto di sanificazione che è posto sotto sequestro in attesa di verifiche tecniche. Ci sono dubbi da in merito all'inchiesta che vede coinvolta la Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Dopo le indagini della Guardia di Finanza che avevano portato all'accusa di truffa aggravata e danni di enti pubblici oggi il Tribunale del Riesame di Rimini ha respinto le tesi della difesa avvalorando quindi quelle dell'accusa. I tre indagati, massimi esponenti dell'ente ispirato da Comunione e Liberazione avrebbero artificiosamente creato un rosso di bilancio per poter ottenere finanziamenti pubblici da parte di Comune, Provincia e Regione Emilia Romagna. La difesa aveva chiesto il dissequestro dei 310 mila euro congelati alla Fondazione a garanzia dell'eventuale risarcimento atto negato perché, come si legge nelle motivazioni depositate i nutriti elementi raccolti dagli inquirenti fanno ritenere sussistenti le accuse di un articolato sistema volto a lucrare in debiti ed illeciti profitti. Inoltre è stato divulgato il testo di una e-mail tra responsabile amministrativo e quello legale della Fondazione in cui si legge questo importo dovrà essere sufficientemente flessibile da permetterci di adattarlo alle nostre necessità di bilancio. Intanto la difesa del meeting continua a sostenere le tesi di non colpevolezza indicando in un grosso equivoco tutta la faccenda. Ancora un dato negativo per la nostra industria a novembre il fatturato è calato dello 0,2% rispetto a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2011 la caduta è stata del 5,4% si tratta dell'undicesimo calo tendenziale consecutivo particolarmente grave il crollo del fatturato nell'industria degli autoveicoli che a novembre su base anno è sceso in Italia del 9,4% i dati sono dell'Istituto Nazionale di Statistica male anche gli ordini dell'industria meno 0,5% sul mese e meno 6,7% tendenziale anche qui si tratta di un calo che è il quindicesimo consecutivo. Un tribunale speciale per il caso dei due marò la Corte Suprema Indiana ha deciso che sia costituito a Nuova Delhi per giudicare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati di uno sviluppo positivo e di un passo avanti parlano fonti italiane vicine al caso altra novità è il riconoscimento da parte della Corte Suprema Indiana che l'incidente è avvenuto in acque internazionali Girone e Latorre non avranno più restrizioni di movimento in India e saranno liberi di spostarsi in tutto il paese Il 3 febbraio debutto per l'Italia del rugby alle 6 nazioni 2013 in casa contro la Francia la più tosta delle avversarie che giocheranno all'Olimpico di Roma con 60.000 spettatori di media possibile vincere due volte ha detto il presidente federale Alfredo Gavazzi Vedo sicuramente da come si sono comportati a novembre in Inghilterra e la Francia hanno dimostrato qualcosa di più degli altri però noi ci siamo e come tutte le cose entriamo in campo per vincere Tema della trasmissione di oggi Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro Ne parliamo con Paolo Galli che è il direttore dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Quali sono le linee di intervento quando parliamo di questo argomento così delicato e importante? Sì, lavorare nella prevenzione e per la prevenzione non è una cosa semplice per cui le attività che vengono messe in campo danno in genere dei risultati dopo molto tempo, li vediamo dopo molto tempo quindi è necessaria una pianificazione delle attività e la messa in opera dei programmi ben definiti questo è stato fatto nella regione Emilia Romagna nell'ambito del piano regionale per la prevenzione che copre il triennio 2010-2012 nell'ambito del quale vi sono una serie di linee di indirizzo che giungono comunque da indicazioni a livello nazionale e che coprono tutte le attività di prevenzione sia la prevenzione domestica, la prevenzione nei luoghi di lavoro la prevenzione delle malattie croniche eccetera Quali sono gli ambienti di lavoro maggiormente interessati purtroppo da infortuni e incidenti sul lavoro? Da questo punto di vista il piano della prevenzione sviluppa un programma che si chiama programma lavoro e salute all'interno del quale individua una serie di attività prioritarie Sicuramente l'attenzione è rivolta a due comparti per ciò che riguarda le attività che mirano la riduzione degli infortuni sul lavoro che sono l'agricoltura e l'edilizia che sono i due comparti dove complessivamente a livello nazionale si registra il numero maggiore di infortuni mortali e con invalidità permanente Nell'ambito del programma lavoro e salute su questi due comparti la regione chiede ai servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro delle aziende sanitarie regionali di sviluppare delle azioni che seguono sostanzialmente due linee di indirizzo una legata allo sviluppo dell'attività di vigilanza quindi al mantenimento dell'attenzione sulla vigilanza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle normative sulla sicurezza e l'altra che riguarda invece l'attività di assistenza informazione formazione rivolte al mondo del lavoro quindi rivolte alle imprese rivolte ai lavoratori in particolare nell'edilizia e nell'agricoltura vi è comunque un obiettivo di vigilanza che si sostanzia in circa 4.000-4.500 cantieri in tutta la regione e circa 600 aziende agricole anche questo su scala regionale di fianco a questi numeri che riguardano le attività più prettamente di controllo vi sono un'altra serie di attività che riguardano la promozione quindi la realizzazione di materiali informativi la realizzazione di opuscoli e in generale di materiali che servono per promuovere all'interno delle aziende la cultura della sicurezza questi materiali vengono redatti e realizzati anche con la collaborazione dell'Inel quindi attraverso dei progetti su scala nazionale che poi vengono riportati all'interno delle regioni controllo proprio perché gli imprenditori e i lavoratori devono seguire delle accortezze molto particolari che in tanti casi possono salvare la vita certamente specialmente in edilizia il rispetto delle normative che sono ben delineate all'interno del decreto 81 che è la norma che ha sostituito la vecchia 626 sono molto importanti da rispettare pensiamo solo ai dispositivi di trattenuta per evitare le cadute dall'alto pensiamo ai dispositivi di protezione individuali da indossare la sicurezza delle macchine, sono tutti accorgimenti che possono, se adottati, evitare delle tragedie che purtroppo continuano a verificarsi hai un discorso a parte per le malattie professionali? sì, anche in quest'ambito il piano regionale della prevenzione prevede l'impegno dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro su due versanti il primo riguarda la prevenzione delle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico quindi quelle che riguardano dei fattori di rischio coinvolgono dei fattori di rischio sull'apparato muscolo scheletrico che sono oggi le malattie più denunciate in assoluto in Emilia Romagna hanno superato anche le sordità da rumore che tradizionalmente erano le malattie più denunciate e l'altro versante riguarda la emersione dei tumori di origine professionale cioè delle patologie neoplastiche che hanno una correlazione molto stretta con determinati fattori di rischio professionali da questo punto di vista un grande impulso è stato dato alla rete informativa al sistema informativo sappiamo poco relativamente alle esposizioni a quanti esposti vi sono e a quanti casi vi sono di tumori correlati con l'esposizione professionale la regione Emilia Romagna ha previsto l'istituzione di un registro regionale dei tumori nasosinusali che sono dei tumori che hanno una forte correlazione con l'esposizione a determinati fattori di rischio professionali polveri di legno, polveri di cuoio registro che verrà gestito dalla nostra azienda US, dall'azienda US di Imola e dall'altro lato la costruzione di un archivio dei registri degli esposti a tumori professionali registri che sono obbligatori ai sensi dell'81 per tutte le aziende che lavorano, che hanno nelle loro lavorazioni delle sostanze chimiche che sono classificate come cancerogene ecco l'archivio regionale avrà lo scopo di sistematizzare tutte le informazioni che normalmente già le varie aziende sanitarie ricevono per poter fare dei ragionamenti sulle mappe di rischio per poter fare anche delle pianificazioni di attività di prevenzione su quest'ambito in base ai dati che vengono raccolti Ecco dottor Galli, in chiusura insomma una novità importante questa dei registri che sicuramente darà sempre più aiuto ad una tematica che negli anni comunque è sempre stata, ha avuto sempre una miglioria continua Sì, servirà per farci conoscere meglio i fenomeni per farci capire meglio quali siano le correlazioni tra lo sviluppo di determinati tumori che la letteratura correla a disposizione professionale e le lavorazioni che insistono sul territorio e quindi sono molto importanti perché raccolgono delle informazioni per farci conoscere dei fenomeni che oggi conosciamo poco o conosciamo solo attraverso la letteratura in generale Un ultimo dato anche se non è proprio numerico ma com'è l'incidenza degli infortuni oggi nel mondo del lavoro? Allora, l'incidenza degli infortuni è in costante calo da diversi anni rimane comunque uno zoccolo duro che si fa fatica ad intaccare purtroppo oggi il calo degli infortuni va anche correlato alla crisi del mondo del lavoro perché? Perché chiaramente i tassi di incidenza e quindi il numero di infortuni per 100 lavoratori è chiaro che correla anche con il numero di addetti il numero di ore lavorate che purtroppo riguardo al mondo più industriale e quindi alle attività produttive oggi sappiamo essere in calo nel nostro territorio abbiamo avuto un calo nel 2011 molto marcato degli infortuni sul lavoro che però diciamo che va ridimensionato da questo tipo di fenomeno ciò nonostante i dati stabilizzati che l'Inail ci fornisce e che i più recenti risalgono al 2009 comunque ci dicono attraverso la costruzione dei tassi che il calo esiste cioè effettivamente c'è un miglioramento della situazione da questo punto di vista e naturalmente speriamo che si mantenga tale anche nel corso degli anni grazie al dottor Paolo Galli con lui abbiamo parlato proprio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro grazie a tutti grazie a tutti